Ciao, io sono Andrea Petroni del blog di viaggi VoloGratis.org e in questo video ti parlerò dei bagagli all'Italia. Ciascun po' assaggiare all'Italia può portare a bordo due bagagli a mano. Un bagaglio a mano con dimensioni massime di 55 x 35 x 25 cm e con un peso massimo di 8 kg e una borsetta o un porta PC. Chi ha acquistato invece un biglietto in tariffa Primum Economy potrà portare due bagagli da stiva con un peso massimo di 23 kg ciascuno. Chi ha acquistato un biglietto in tariffa Business potrà portare due bagagli da stiva con un peso massimo di 32 kg ciascuno. Ciao e buon viaggio!